... Siamo al tuo quadro Rems, Nero, vediamo se riesce a passare il tempo, ciò mi ha detto ha dato un ottimo tempo, 4.0.43. 3.59.94, miglior tempo, complimenti, un applauso, miglior tempo in questa prova, miglior tempo di giornata. Il fuori dei 4 minuti, come credevamo e ne avevamo certi, è stato abbattuto per pochissimi centesimi, 6 centesimi. Ed ecco la tua guarda, un appicestola, un appicestola con la sua scercola, che chiude 4.00.65, terzo tempo su 3.00.